Buongiorno, benvenuti. Questa è la segna stampa di oggi 30 ottobre. Le notizie oggi sui giornali sono soprattutto riguardanti il Movimento 5 Stelle, anche perché ieri Di Maio dice la frase esatta, adesso ve la leggo, è importante leggere la frase di Di Maio, dobbiamo essere come una testugine romana. Sostanzialmente che cosa dice, che cosa mente ieri Di Maio, che all'interno del Movimento 5 Stelle ci sono delle frizioni. Dunque, per la prima volta forse quello che scrivono i giornali è anche certificato dal comportamento del leader politico del Movimento 5 Stelle. Oggi il Corriere della Sera fa una specie di collage delle foto di tutti quelli che sarebbero contro Di Maio all'interno del suo partito. Beh, insomma, se li vedete li evitate. Insomma, c'è gente come Lannutti, capite? Lannutti. Il principio è sempre che un moralista trova sempre uno più moralista di lui che gli vuole fare il pelo. Questo è il principio molto chiaro che si riesce a capire oggi dalla fronda all'interno del Movimento 5 Stelle, che in realtà avviene sulla TAP, cioè il tubo di 8 km fatto in Puglia e sulla quale Lega e 5 Stelle si scontrano. Beh, i 5 Stelle hanno dovuto ammettere che non si poteva non fare, per il semplice motivo che sarebbe costato troppo, come qualsiasi contratto, ce l'ha spiegato bene ieri Calenda a Quarta Repubblica, qualsiasi contratto si tronchi a un certo punto della propria esecuzione, ci sono dei risarcimenti che vengono dati alle aziende private. In questo caso i risarcimenti sono per pare 20 miliardi di euro. Ma la giornata di ieri da una parte è stata segnata, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, dalla chiusura della TAP, cioè dal fatto che si farà la TAP come era facilmente immaginabile, dall'altra dal Consulio Comunale di Torino, che non si capisce con quale veste, anzi sicuramente ce ne sarà qualcuna, firma e vota un ordine il giorno per cui si dicono contrari alla TAV tra Torino e Lione. Proprio il giorno dopo che il governo aveva detto che si sarebbe fatta la TAP in Puglia. E proprio il giorno dopo il pezzo della stampa di Luigi Laspina che diceva una cosa molto banale, e cioè diceva guardate che loro dovranno evitare di fare la TAV perché hanno ammesso che si doveva per forza fare la TAP. Scusate il gioco di parole, però il punto fondamentale è qua che si gioca sul nostro futuro, sul futuro delle prossime generazioni in base a uno scacchiere politico. Gervasoni oggi fa un pezzo favoloso sul messaggero ed è molto semplice, ed è molto divertente perché tiene in piedi un paio di argomenti sui quali io mi interrogavo in queste ultime ore e di cui vi voglio parlare. Cioè dice l'ubriacatura italiana per la vittoria dei Verdi in Assia e in Baviera, cioè il partito dei Verdi che tutti i giornali hanno raccontato, sembra il partito antipopulista, sembra il grande partito dell'Europa, sembra il grande partito contro la deriva populista della destra, e tutti in Italia hanno brindato all'esistenza di questo partito, non certo io, ma insomma una gran parte di italiani, di quelli che scrivono sui giornali, hanno pontificato dicendo che questa signora è quella che salverà l'Europa, un po' come avrebbe dovuto salvarlo Macron che nel frattempo respinge i migranti italiani a 20 miglia. Ma Gervasoni ride perché dice guardate che i Verdi ci sono anche in Italia, ce ne sono tantissimi, basta vedere quello che è successo ieri al Consiglio Comunale di Torino per i quali i Verdi si sono opposti alla costruzione di un tunnel che peraltro è stato già in parte costruito ed è finanziato dall'Europa. E dice in realtà guardate che quelli sono populisti, non è che sono ambientalisti, sono populisti che fanno come si è visto ieri le barricate contro lo sviluppo di questo paese, cosa molto diversa rispetto a quello che avviene in Germania. Riguardo alla TAV vi segnalo anche l'intervista di Fontana, presidente della regione Lombardia, che dice qua io sto bene con questa maggioranza di centrodestra e se si fosse accordo prima il centrodestra che quella forse è l'alleanza più organica e più normale sarebbe stato meno guai per tutti quanti noi. Ma dice Fontana, riguardo alle infrastrutture noi abbiamo idee fondamentalmente diverse rispetto a quello del Movimento 5 Stelle, chiaro? quindi la certificazione di un non dettaglio, di una questione di principio perché le costruzioni e le infrastrutture non sono una questione di dettaglio, sono fondamentali per questo paese. Comunque, insomma, Di Maio ve l'ho raccontato, sta in difficoltà non solo per le grandi infrastrutture ma per il decreto fiscale, per la TAP di cui abbiamo parlato e anche per il decreto sicurezza. E lì è l'altro fronte che i retroscenisti oggi sui giornali dicono ci sarà polemica perché vedrete che sul decreto sicurezza fortemente voluto da Salvini ci sarà un tambureggiamento da parte del Movimento 5 Stelle. L'altra grande notizia di giornata oggi è ovviamente il maltempo, sei i morti ma sono destinati purtroppo a crescere, il titolo più bello è quello del tempo di oggi licenziata in tronco, riguarda l'incapacità, dice e sostiene nel tempo, Chiocci fa il fondo oggi sul tempo, della raggi di gestire una città e di chiudere le scuole quando in realtà non ha più avuto, il problema era il vento semmai. Io però su questo devo dire che penso che la città sia gestita malissimo, lo sapete mille volte quanto ne ho parlato, però l'idea che se chiudi le scuole non va bene, se non le chiudi va bene, se c'è un principio di precauzione eccessivo. Insomma, io su questa cosa della chiusura delle scuole in una giornata come ieri, che è stata comunque davvero un casino in questa città, non è che sono del tutto contrario, insomma è difficile sempre mettersi nei panni del sindaco, in questo caso diamo le colpe corrette al sindaco, questa è una città bloccata, non c'è più una mutazione, c'è un assenteismo folle, non c'è un progetto, si blocca tutto piuttosto che fare qualche cosa, però insomma forse chiudere le scuole ieri come è venuto in altre parti d'Italia era un principio di precauzione a cui non sfotterei moltissimo. Zacche oggi ci parla dei mercati finanziari, dei 100 miliardi secondo Ricolfi che sono stati persi negli ultimi sei anni da borse e titoli di Stato e lui li guarda da un altro punto di vista, Zacche, sul fondo del giornale, cioè eravamo a quota 24.000 nel nostro Fuzzi Mib, oggi siamo a quota 19.000, sono passati sei mesi, 5.000 punti persi in sei mesi, lo spread era a 120 con la Germania, oggi è a 300. Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno a qualche ragione, sostengono che la borsa è inutile guardarla in questa maniera perché finché non realizzi le perdite o i guadagni quelli sono soltanto virtuali, questo tanto non vale purtroppo per i titoli di Stato per i quali invece le banche, quei titoli di Stato come vi ho detto mille volte, se i titoli perdono valore giorno per giorno loro lo devono certificare sui loro bilanci. Però il pezzo interessante di Zacche è che ieri i mercati sono andati bene, hanno fatto più 2%, lo spread è sceso e sapete perché? Perché Standard & Poor's venerdì non ha tirato giù il rating dell'Italia di due tacche, neanche di una tacca, ma ha soltanto rivisto l'outlook e quindi lo Standard & Poor's, i nemici, le agenzie, i cattivoni, in realtà non sono stati così cattivi con noi, tant'è che ieri il mercato, che pensava che fossero cattivi è un po' rimbalzato, dice Zacche, speriamo che non sia il gatto morto, il rimbalzo del gatto morto, che è un'atrice metafora per raccontare quando i mercati rimbalzano senza grande peso. E allora, dice Zacche, dove stanno tutti quei complotti di cui parlavate nei mesi scorsi? Non ci sono. Bello il pezzo del foglio sul populismo buono, cioè in realtà forse il populismo, secondo un libro di Miller che loro prendono a spunto. Potrebbe anche essere buono se serve a rafforzare e creare gli anticorpi della democrazia. Ferrara oggi su Bolsonaro, che vince in Brasile, fa un pezzo come fa sempre lui, lirico, ben scritto e piuttosto incomprensibile, dove ho il beneficio di essere citato, immagino come iper liberista assistente di Bolsonaro. Insomma, una sorta di Chicago boy, Roma boy, pugliese boy con i brasiliani. Pochi giornali italiani parlano del budget inglese, cioè della loro finanziaria, lo trovate sul Daily Mail di oggi, e che pare che sia una finanziaria di spese folli, così dice il Daily Mail, anche se c'è un taglio fiscale che varrebbe per 32 milioni di inglesi, cioè quelli fanno la Brexit e dicono basta con l'austerity, tagli fiscali e più soldi alla sanità. Mi sembra 20 miliardi di maggiori quattrini per la sanità. Ha ragione Francoise, Zuppa Boy sarebbe molto meglio. Buongiorno Nadia. Chi era ieri che mi diceva se lo salutavo in diretta? Edo, però non lo vedo Edo, forse dal Brasile è un po' troppo presto per lui. Tamburini oggi continua la sua battaglia, che è un po' coperta, ma è svelata, cioè quella di portare alla presidenza della Consob il suo collaboratore Minenna, ex CGL, oggi uomo del Movimento 5 Stelle, che sarebbe un gran casino alla Consob, ma Tamburini punta sull'uomo dei 5 Stelle, oggi fa il fondo dicendo occupiamoci della Consob, dopo che è stata fatta questo scempio nelle autorite indipendenti di mettere il suo presidente che non aveva per niente, ma comunque sia è una irritualità mostruosa. E riguardo alla manovra, due o tre notizie di giornata. La flat tax per i professori che fanno le ripetizioni di privato al 15%, le terre date dal demanio per chi ha un terzo figlio, ciao Isabetta anche a te, saluti dalla Liguria. E la cedolare secca per i negozi, che forse questa è la notizia più interessante, fino a 600 metri quadri e anche gli esercizi commerciali possono godere di una cedolare secca, cioè chi l'affitta all'esercizio avrà una tassazione del 21% invece del reddito. Come sempre si trovano 4,2 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti degli statali. Io direi che per oggi è tutto, se vi piace questa zuppa condividetela, ma sul sito nicolaporro.it avrete un sacco di notizie di giornata e il nostro, perché ormai siamo diventati una grande community che è fatta da ospiti, da alcuni di voi che ci scrivono, da alcuni di voi che invece iniziano a collaborare, da Gnocchi, a Capezzone, a Bisignani, a Ruggeri, insomma tante persone che hanno reso e stanno rendendo sempre più visibile il sito nicolaporro.it, di questo vi ringrazio, ringrazio anche voi che mi seguite ormai da 4 anni, ciao!